Benvenuti a scuola, benvenuti all'asilo inclusivo Serentori in Etiocca. Qui i bambini con disabilità studiano assieme ai bambini senza disabilità. Questo è incredibile perché nei paesi in via di più o milioni di bambini con disabilità non possono accedere alla scuola. Ma con il modello di CBM tutto questo è possibile. Aiutaci a sostenere tanti asili inclusivi CBM. Grazie a tutti. Grazie a tutti.